in questa serata dove verrà presentato il nostro programma elettorale e tutti i candidati presenti nelle quattro liste al nostro supporto e adesso lascio la parola a Maria Rita Panci che modera la serata e che presenterà tutto quello che accadrà da adesso fino a fine serata. Grazie per l'attenzione. Grazie. In primis diamo un caloroso abbraccio al Vice Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, per la prematura perdita del marito, il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Augello. Rispettiamo un minuto di silenzio. Grazie.